Buongiorno. Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti. Voglio direttamente la mia congratulazione a Manuel Ferriera e il gruppo di organizzare questo molto buon e ben organizzato workshop. Il mio discorso di oggi è su un studi teoretico e numerico che abbiamo fatto ciò che stiamo facendo il comportamento ciclico di FRP per interfezioni concrete. Questo lavoro è fatto insieme a Antonio Gaggiano, che è un studente migliore che ora è in Argentina. La presentazione è organizzata in queste cinque seczioni. Vi mostrerò la motivazione del studi, la formulazione, la implementazione numerica e la validazione. la paramedica analisi, che è il cuore della mia presentazione di oggi. Vi racconto qualcosa sulle conclusioni e vi mostrerò qualcosa del lavoro in progresso. Il lavoro in progresso è principalmente il effetto di costruzione, che è relevante per le azioni cicliciche. Stiamo parlando del comportamento di FRP con il concreto. Come vedete, questi sono i testi che sono portati per caratterizzare il comportamento delle strade di FRP con il concreto di materiale con il concreto o di materiale brittale. Normalmente questi testi sono portati sotto condizioni monotone. Questo lavoro è intenzionato per simulare il comportamento di sciclico. Alla prima parte della mia presentazione, anche se sotto la sciclico, si tratta con le azioni quasi statiche. Quindi, ciò che vi presentiamo è un modello basato su queste fondamentali in modo che il modello è in modo 2. Quindi, abbiamo una propagazione per l'interfaccia di profondo per l'interfaccia di profondo. Abbiamo un'analytica che vi mostrerò per il comportamento di fondamentali. Abbiamo un'interfaccia di strade di profondo di sciclici e stiamo sotto l'assumption di modellisplacimento. Con questi aspetti, possiamo formulare un modello basato sui semplici. come sapete, il FRP è simulato da un elemento di 1D, un elemento di ruota in cui queste sono le condizioni di equilibrio. Ovviamente, non scelto nessuna deformazione nel bloc. Quindi, la derivata del sciclico è collegata con l'interfaccia dell'interfaccia di FRP. Questo è il comportamento di elastico del FRP. Questa è l'equazione connessione con l'interfaccia e le strade di fondamentali. Ovviamente, depending sull'espressione assumata per le strade di fondamentali, e questo è il caso che consideriamo nel nostro stude. Abbiamo differenze analitiche espressioni per la prima equazione. Quindi, consideriamo un comportamento lineare sull'interfaccia fino ad un certo massimo valutare del fondamentali, poi un'esponenziale e un'imponenziale e un'imponenziale con nessuna esterizzazione ma un'imponenziale e un'imponenziale che si tratta con il lavoro che ha fatto nel processo di fraccia. Quindi, il più più è questa area il più più l'imponenziale è questa l'imponenziale l'imponenziale. Quindi, qui ci sono alcune espressioni per derivare la fraccia energetica per questa espressione. Ovviamente, se sei in questo punto, questo significa che l'imponenziale o l'imponenziale è quella che è la parte dell'imponenziale che non può essere recuperato. Questo è come si può essere espressione e questo è il lavoro che ha fatto nel processo di fraccia fino a questo punto. Tutto può essere espressione in una formazione l'imponenziale per l'imponenziale. Per simulare l'imponenziale di l'imponenziale ciò che si è considerato che può essere implementato in un codice. Questi sono le equazioni che possono essere scritte in ogni punto. Questi sono le condizioni di l'imponenziale delle differenti differenti espressioni di il nostro problema. Quindi se si avete n plus 2 equazioni la città di città di città, l'idea è imparare un incremento di città di città e poi evaluare, per l'autorizzazione, l'incrase in displacimento e poi l'incrase in stress, depending sull'attitudine di tangente stessa. E poi potete aggiungere il vectore di displacimento, i vectore di stress, e così via. E poi, se tutti i stressi sono sotto il risultato del risultato per il giro, per l'ottorizzazione dell'incrase in ogni uno dei nodi, non c'è nessun sistema di cambiamento del sistema. Inoltre, dovete dividere il incremento, il incremento, in una parte che resta il sistema in l'elastico, e l'altra parte, che è la parte di plastica o il croce. Quindi, potete fare queste due operazioni. Abbiamo l'elastico del incremento e la parte di plastica. La parte di plastica contribuisce alla propagazione della propagazione di plastica. Inoltre, questa è una procedura di incremento. Per esempio, K è l'indexo di iterazione. Se in due iterazioni, la differenza è sotto una certa toleranza, l'iterazione stoppa. e potete andare al prossimo incremento. Prima di fare questo, potete evaluare il incremento in le forze, solo da integrare o sumare i stressi del risultato. E poi, potete trovare l'indexo del incremento, se questo è il caso. Inoltre, potete passare dall'elastico all'elastico all'elastico. In questo caso, se il designo del incremento del incremento è cambiato, questo significa che, dal pattern di plastica, devi andare all'elastico all'elastico all'elastico. Questo significa che devi andare in questa parte della curva. So, depending on the fact that, in a certain point, the specimen incremento cambia il signo, you are on this part. So, you can move this way or this way, depending on the fact that the sign keeps the same or changes. So, this is basically how the procedure works. We tried to validate this procedure. We considered one of the few experimental tests with cyclic results. So, this is an aramid FRP plate bonded on a concrete block. This is a paper by Cohenzato in 2007. The cyclic protocol is discovered here. So, there is certain cyclic protocol specific for this work. and we tried to reproduce this cyclic protocol. These are basically the results. I want to stress, before I show you the results, I want to stress that we didn't do any best fitting of the results. We just took the numbers proposed by the author for the interface load, for the interface bond slip flow. So, these are the results. As you can see, the monotonic result will lead to this value. These are, in grey, you see the experimental results. These are more or less the numerical results. You may see that there is a certain agreement, but also, we cannot really reproduce perfectly everything. I want only to point out that what we reproduce quite well is the number of cyclic reversals, which is an important output parameter. So, we know that the number of cyclic reversals is more or less the same between our simulations and the experimental results. I would also like to draw your attention about another interesting feature of these results. As you see here, there is an hysteresis response of the forced slip behavior. I have not mentioned, but it should be clear that this is the external slip, the slip from where the force is applied, and this is the reaction force. So, you have some hysteresis in the cycles. Although, at the material level, we have no hysteresis. As you remember, our load and reloading happens without hysteresis. So, as you see, this is a structural effect. This depends on the fact that damage throughout the bond is not uniform during loading and reloading. So, the points which are closer to the point of application of the force are more damaged than the interior ones. That's why we have these cyclic reversals, this theoretical response. Now, since one of the most important features to be reproduced in a cyclic test is not just all the cycles, but the numbers of these reversals leading to failure, we tried to do some analysis, parametric analysis, by considering this protocol. We considered that the same joint we have already used, the one tested by Cohen Sato, is now loaded by considering an average force which is half of the monotonic one, which can be evaluated easily, as all of you know. So, this is the theoretical monotonic load. We took one half of this as a central, as an average force, and then we considered a variable amplitude, the f, delta f, which ranges between, say, sorry, which ranges between and 90% of the average, which ranges between 15% and 45% of the maximum monotonic load. So, now let's see how damage propagates in these tests when delta f increases, and if there is a special relationship between the number of cyclic reversals and the amplitude of the cyclic load. So, for instance, this is the first results. As you see, this is the first results in which I have the same force displacement curve. There is, as you see, no, almost no damage accumulation. So, when delta f is 50% of the monotonic load, you have no damage accumulation, and we have no crisis for a number of reversals up to 500 cycles. So, we stopped there our analysis. If you go with a higher and higher, a wider and wider amplitude, you see that here you start seeing some accumulation, but you have no crisis up to 500 reversals. Here, we are here in a slightly wider displacement, the amplitude, and here you see that the propagation is much more evident than before, but still, we couldn't put, bring to failure our numerical specimen up to 200, up to 500 cycles. The first time in which we observed failure, and this was for for 120 cyclic reversals, it was for, if I remember, 30% of the average loading. So, this is the first time in which we observe failure, in which we obtain the bonding under cyclic loading. And if you keep widening your displacement amplitude, you have a smaller number of reversals leading to failure with a more and more apparent hysteresis of the response, which is a structural effect, as I said, which appears for wider and wider amplitudes. As you see, the numbers of reversals leading to failure are smaller and smaller. So, now the question is, is there any relationship between this number of reversals and the amplitude? The answer is here. It's a classical answer. So, this means that if you put your number of reversals leading to failure, and the stress amplitude, force amplitude, here it is two times delta f divided by f monotonic. So, it's something which is related to delta f, after all. You obtain a linear relationship, which is a classical result in a so-called Völler curve, for those of you who are familiar with fatigue theory. So, basically, the behavior, the cyclic behavior of this system can be expressed in this classical shape, in which, basically, in a log-log plan, the number of reversals and the amplitude of failure of load is on a line. It's on a linear segment. And this is the classical expression of the Völler curve. For those of you who are, it's two minutes. I'll complete. Now, since this is a structural effect, the question is, how does this curve change if I reduce the bonding length? So, if I, for instance, this is the response of a system with a shorter bonding length. Of course, for the same amplitude, I have a lower number of cycles. But what is the effect in terms of Völler curve? As you see here, this is the 300, 200, and then we have, oh, sorry, we have 300. This is 200, the black one, and then we have the 100 millimeters with the reference 300. So, if you look this in terms of Völler curve, you obtain this. If you pass from 300 to 200, you have a parallel shift of this curve. And if you pass to 100, this is not only a parallel shift, but also a sort of rotation. And this is because if you consider, and this is the interpretation is here, in this case, the system has a transfer length, an effective transfer length, which is around under 50. So, as you see here, basically, the value of B, which gives you the slope, is basically unchanged. It's basically almost constant for L longer than effective. On the contrary, the value of A is slightly slightly variable with the effect. So, what is the message of this presentation? The message of this presentation is that the idea that we have about the transfer length, which is based on monotonic actions, should be somehow modified and reached if you have to consider seismic actions. So, for instance, if we manage to calibrate our Völler curve, we can say, okay, we need this amplitude. We need this number of reversals. We need this amplitude. So, we need this length or the other one. You have this different length. So, imagine that you can generate a family of curves, each one related to a bonding length. So, this means that you can choose your length depending on the number of cyclic reversals you are facing width and the amplitude you are also considering as an input. I will conclude shortly, just to mention the idea for the strain rate effect, because all the results I've shown so far are based on quasi-static actions. So, we consider that there is no time in our simulations. We are now going to extend our model by means of a dual-ion approach by considering that the viscoplastic, I would say, response is somehow an interpolation between the elastic one and the elastoplastic one depending on this parameter eta, which is a time scale for the system. So, depending on the ratio between delta t and eta, in which delta t is the time increment in which you apply your displacement increment, depending on the value of the ratio between delta t over eta, you can go from the perfectly envisaged solution, which is the one I've shown so far, up to the perfect elastic solution. And these are the intermediate cases. This is how the local response, the single node response, modifies depending on the strain rate. And I will show you only a few preliminary results on monotonic tests, but taking into account the strain rate effect. So, as you see here, the increase in apparent strength and also the increase in post-cracking softening due to the effect of strain rate. But these are very preliminary results, and we are now working on that. We are now working on bringing this approach, the dual-ion approach, in the cyclic model. So, this is what I have to tell today, and I thank you for all kind of attention.